Io li presento solo, quindi non c'entro niente. Sono stati scelti dall'organizzazione di questo locale, che è La Terrazza, insieme a DJ Julian e DJ Marlo, che tra l'altro mi ha fatto anche, ho davo a letto questa sera, poverino, ho chiesto di fare una serie di cose e le ha fatte tutte lui. E quindi qualsiasi responsabilità la declino. Questo era per i ballerini, devo dare un messaggio a loro. Quindi, cominciamo dalla mia sinistra, spazio alle donne. Quindi, Sogna Terribile di Step by Step, Laura Mangello, Carisma Punto Danza, gioca a casa. E poi i maschietti, Mimo Fusco, Balla col Sorriso, Massimo Ballando, Cristian Cossu, è vero? È vero? O mi è andata una notizia quasi tendenziosa? Ah, è il marescal della salsa. Bene, a questo punto però voglio in vista i protagonisti, i veri protagonisti di questa sera, che sono le nostre cinque coppie. Io li chiamerò in ordine sparso, nel senso non mischio le coppie, li chiamo in ordine sparso come gli ho scritti sul foglietto. E quindi, Denise Aurora, da Ovada, Mambo Ricco. Roberto Paola, Torino, Larueda. Andrea e Silvia, da Gregnasco, Novara, Estravaganza Dance Company. Edoardo Eleonora, da Milano, Vietbambo. Celestina e Stefania, da Ovada, Mambo Ricco. Bene, signor direttore di gara, perché il balletto sta fumando e quindi non lo voglio in pista con me. Se per cortesia mi porta il cestello che ce l'ha, ho preso, ho il velino biondo e il velino moro, guarda se si picchiano anche. Il velino biondo. Ok, Graziano, perché non lo conoscesse, mio marito. No, 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 venghi in mezzo alla pista a fare questa cosa, grazie. Mica che poi hanno da ridire. Quindi, le donne qui con noi, grazie. Sorteggiatevi l'ordine di uscita, quindi ognuno di voi prenda un biglietto e quello che vi tocca, vi tocca. Bene, quindi fateci vedere quali sono i vostri ordini d'uscita. Quindi sei il 2, sei accanto a me da tanto. Ok, quindi i primi a ballare saranno Edo e Eleonora, quindi gli altri possono accomodarsi. Non mi sentivo. Allora, aspetta solo un secondo che i giudici così si scrivono i nomi. Quindi la coppia numero 1, Edo e Eleonora. La coppia numero 2, Celestina e Stefania. Allora, Rosa preparati. La numero 3, Denis e Aurora. La 4, Andrea e Silvia. E in coda, Roberto e Paola. Cioè? Non volevamo mettervi il numero sulla schiena perché non ci piaceva durante lo show. Visto che stessero in 5, stavate in 20, era diversa. Bene, grazie. Le altre coppie possono accomodarsi. Facciamo un grosso applauso di Matteo. A Edo e Eleonora. Per voi, otro amore vendrà. A Edo e la inganzi. A Edo e il nostro paio. Edo e il nostro paio. Edo e il nostro paio. Edo e il approbato. Ora io non importa, io lo tengo che creer Che altro amore vendrà, si lo stai cubriendo E altro amore vendrà, e altro amore migliore E altro amore vendrà, si lo stai cubriendo Che altro amore vendrà, si lo stai cubriendo E altro amore, si lo stai cubriendo E altro amore vendrà, si lo stai cubriendo E anche noi stai cubriendo Perfetto, mi piace, una nuova nicht E poi è una nuova notizante E poi è un amore avere un typhi E io che moriria Perché tu me fueras fiel E se sto hablando in vano E se sto hablando mal Ora non importa Lo que quieres terminar Ora non importa Se io stai soffrendo Ora non importa Ora non importa Ora non importa Non importa Lo que voglio dedicarme la mi E se felice E se mi fai 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 Venga l'uomo fra me Venga l'uomo fra me Venga l'uomo fra me Venga l'uomo fra me Venga l'uomo fra me